allora buonasera buonasera a tutti grazie di essere qui eroicamente arrivati ragione anche di quel che sta fuori che continua ad essere imbarazzante impressionante siamo ora rientrati da una pioggia fortissima spero non si comunque scusate buonasera a tutte allora per questa circostanza abbastanza naturale in ragione del fatto che è un anniversario e dunque gli anniversari quando sono la cifra tonda come il settantesimo vanno fatte già abbiamo raccontato chi di voi ha seguito ha visto ha percorso la mostra abbiamo raccontato nelle condizioni del possibile non certo i 70 anni pieni della cinetica nazionale ci sarebbe voluto il louvre forse per mettere insieme in fila tutto quello che si è fatto in questi anni però mi pare abbastanza indicativo il quel che si è messo in piedi grazie al lavoro di curatela che è stato svolto e vi presento da alfredo baldi sono arrivato dagli interni del centro sperimentale li ringrazio tutti attraverso la persona di vincenzo aronica che ha in particolare seguito all'allestimento non facile non facile di questo lavoro che è stato a sua volta tutti insieme seguito dal nuovo peraltro da poche settimane direttore generale del centro sperimentale di cinematografia monica cipriani che il lavoro era stato già in precedenza seguito dal dal l'ex direttore generale che qui è che saluto marcello forte siamo molto felici di poter essere ospiti qui al teatro degli oscoli di luce cinecittà roberto cicutto presidente amministratore regato del luce cinecittà ci ha messo amichevolmente a disposizione questo spazio bellissimo che sarà molto vivo nel prossimo nel corso dei prossimi due mesi si comincia stasera già da domani iniziano degli appuntamenti che toccheranno e ogni settimana ce ne saranno vari toccheranno una serie di attività e di aspetti di quel che la cineteca nazionale ha realizzato nel corso non dico di tutti i 70 anni ma soprattutto negli ultimi 30 40 anni anche attraverso le manifestazioni che si sono realizzate in quella che è stata la stata la sala storica del centro sperimentale cineteca nazionale la sala trevi di cui purtroppo non disponiamo più il proprietario delle mura che è stato come dire un mecenate per tutti questi anni cremonini ha ritenuto di riprendersi e dal 2002 che c'è la sala trevi di riprendersi la sala per ragioni come dire organizzative rispetto all'attività che svolge di europe turistiche attività turistiche sapete che la sala trevi sta a fontana di trevi e questa è una questione che ci ha creato dei problemi nell'anno in cui festeggiamo i 70 anni abbiamo un problema con le sale e lo dico subito per gli amici che hanno seguito alla trevi in passato che hanno continuato a seguirle nei mesi scorsi nella sala rocca del del ministero dei beni culturali e siamo molto grati al direttore generale mario turetta da averci messo a disposizione la sala rocca appunto piccola sala ma molto preziosa all'interno della struttura bellissima di santa croce in gerusalemme continueremo lì una volta esauriti questi due mesi di attività che noi svolgiamo nel teatro degli oscuri la mostra si chiuderà il qui il 15 di il 12 di gennaio 2020 con l'ultimo evento che sarà quello del 9 di gennaio e continueremo con le nostre attività da gennaio in avanti proprio nella sala rocca avendo però a disposizione la casa del cinema ogni lunedì per una convenzione che c'è tra noi la casa del cinema e giorgio cosetti per svolgere una serie di eventi di dentro e poi gli altri saranno realizzati alla sala trevi lo dico perché giustamente giustamente è stato sollevato anche da parte del sindacato critici cinematografici qui è presente il presidente del sindacato presidente sindacato franco montini sollevata la questione che una cineteca così importante come la cineteca nazionale non abbia a disposizione una sala vera ce l'avremo posso anticipare quello che probabilmente dirà mario turetta quando il 22 novembre prossimo giornata dedicata tutta intera ad un convegno sulla storia della cineteca ma anche sulla missione delle cineteche anche europee sarà un convegno internazionale con varie presenze e mario turetta anticiperà forse ma credo che di poterlo dire che ne abbiamo parlato ancora due giorni fa che la cineteca nazionale avrà a disposizione una grande sala che è in corso di riallestimento anzi di ristrutturazione ricostruzione che sta proprio in santa croce in gerusalemme e cito con molto piacere questa possibilità perché già noi da tre anni a santa croce in gerusalemme organizziamo come cineteca nazionale centro sperimentale una serie di attività all'aperto è un'arena nel mese di luglio le prossime date vanno dal primo al 31 luglio una serie di attività legate al cinema contemporaneo e al cinema restaurato che è uno dei compiti fondamentali del lavoro di una cineteca nazionale quindi una settimana di grandi film restaurati gli stessi che abbiamo presentato e che a roma non sono stati ancora visti abbiamo presentato nei festival di berlino di can di venezia e di roma recentemente quindi già una decina di film e i due omaggi obbligatori e molto felicemente obbligatori per noi che sono il tributo a federico fellini per il centenario feliniano che vedrà tante altre iniziative con roberto cicuto ci siamo misurati più volte su la quantità possibile sterminata di iniziative che si possono realizzare ma c'è anche l'altro centenario anzi altri due centenari quello di alberto sordi e noi abbiamo restaurato uno dei suoi film più belli polvere di stelle proprio nel marzo aprile scorso e dedicheremo a fellini una settimana di attività ea sordi un'altra settimana di attività poiché anche il centenario di di alberto sorti ma il terzo centenario capita anche quello è quello di tonino guerra di tonino guerra che con fellini e non solo con fellini naturalmente ma con tantissimi altri autori ha scritto alcuni dei film più importanti di federico a cominciare da marcord ora perché racconto tutto questo perché questi due mesi di attività che noi sbagliamo qui dentro toccheranno nei tanti incontri che sono stati predisposti da luca palla anche domenico monetti toccheremo una questione una serie di questi uno dopo l'altro legati alla nostra storia una storia molto importante è stata vissuta in particolare si scusa con voi l'attuale conservatrice della cineteca nazionale daniela curro che non può essere presente perché impegnato in un importante convegno sulle cineteche a new york si a new york e si a battimora battimora sapevo new york perché l'ha atterrata a new york a battimora e ma tra i cinetecari che si sono succeduti negli anni uno dopo l'altro c'è anche alfredo balti che ha curato questa edizione la prima credo edizione del volume 70 anni perché poi ce ne sarà probabilmente anche preparati una seconda per gli 80 alfredo balti grazie presidente grazie felice io sono molto onorato di essere stato chiamato prima di tutto a curare il libro per i settant'anni della scelteca nazionale e poi contemporaneamente a suo video dopo a curare anche l'organizzazione di questa mostra del libro poi parleremo tra una settimana per la mostra invece parliamo oggi però vorrei precisare vorrei mettere in chiaro che sì io sono del curatore però una mostra è come un film c'è un regista ma c'è poi tutta una truppe intorno il film è un'opera collettiva e la mostra è anche un'opera collettiva quindi in merito non è solo mio ma è al pari mio di tutti quelli che hanno collaborato con me per tutto vincenzo ironica e poi tutti gli altri moltissimi che hanno collaborato all'organizzazione della della mostra e se non voglio fare i nomi perché magari ne dimentico qualcuno però sono tanti e sono molto contento di essere stato chiamato questo compito perché come accendava il presidente io sono entrato al centro del 1968 e sono entrato subito in cineteca e per quindici anni ho lavorato alla cineteca nazionale quindi il sono nato lì insomma quindi sono particolarmente contento e si è stato chiamato proprio a ricordare i settant'anni della cineteca senza contare che gli ultimi miei due anni di lavoro dal 2005 al 2007 di nuovo li ho fatti stavolta come direttore della cineteca e quindi anche questo mi riempiega anche questo mi riempiega di molta gioia naturalmente nel 1968 non ero direttore ero vice segretario aggiunto in prova però insomma piano piano ho scalato un po' di scalini sono arrivato appunto nel 2005 fino a direttore della cineteca questa mostra voi l'avete vista la vedrete ancora se non avete visto tutto di solito si dice 70 anni ma non li dimostra io invece voglio dire 70 anni e li dimostra perché la ricchezza delle collezioni la il lavoro fatto l'immenso lavoro fatto durante questi 70 anni testimoniano che questi 70 anni sono stati perspesi che la cineteca nazionale è attualmente una delle più importanti cineteche cineteche d'Europa e del mondo appunto per la ricchezza delle collezioni per il restauro infatti per la diffusione del cinema italiano nel mondo e quindi 70 anni e li dimostra e viva la cineteca nazionale grazie Alfredo grazie del tuo preziosissimo lavoro tuo e della squadra appunto che da regista rappresenti e prima di passare la parola a Monica Cipriani per un saluto ufficiale da parte del nuovo direttore generale del CSC vorrei segnalarvi i due leoni d'oro che forse avete visto a un certo punto del percorso uno di quei due leoni è stato arrivato alla cineteca nazionale lo scorso anno per il restauro la mostra del cinema di Venezia del film dei fratelli taviani la notte di San Lorenzo un restauro eccezionale realizzato insieme a Luce Cinecittà con cui collaboriamo molto abbiamo un progetto ormai da qualche anno di collaborazione per condividere al 50% i costi che spesso sono molto elevati di restauro delle opere talora in condizioni drammatiche come è successo per alcuni di questi film e di quelli che stiamo proprio lavorando ora su Fellini in particolare e l'altro leone d'oro è quello che alcuni anni fa ottenne la cineteca nazionale per il restauro di uno dei grandi capolavori della storia del cinema mondiale che è una giornata particolare di Ettore Scola e sono con noi la moglie di Ettore Scola, Gigliola e le due figlie Paola e Silvia che ringrazio molto di essere con noi tra l'altro Paola e Silvia hanno proprio in questi giorni pubblicato un libro bellissimo ho finito di leggerlo ieri sera e gli ho mandato subito un segnale a Silvia un libro bellissimo, chiamiamo il babbo, è il titolo, che racconta come può essere difficile anche oltre che bellissimo la vita con un artista così importante da parte delle figlie un po' scapestrate e un po' come dire sfottute continuamente da un papà che sfotteva tutti come ricordereteci si divertiva molto e qualche volta si soffriva anche era molto come Modicelli peraltro di cui il prossimo anno ricordo dieci anni dalla scomparsa e che ci apprestiamo a celebrare anche con dei restauri della Cineteca Nazionale Monica, tu sei al tuo debutto in pubblico, credo di ricordare perché sono ormai poche settimane, da 4 di novembre che sei con noi grazie, buonasera a tutti scusate l'emozione ma come diceva Felice è la mia prima volta ho fatto il direttore amministrativo per dieci anni quindi sono stata nella parte, chiamiamola così tecnica di tutti questi eventi, ho avuto poche occasioni per poter gustare l'anima vera del centro sperimentale e da direttore generale si vedono delle cose diverse che insomma fanno molto piacere la mostra è bellissima, grazie Alfredo con cui ho lavorato per diversi anni ultimamente è stato diversi giorni nei miei uffici con le cartelle vecchie dell'ufficio del personale mi servono anche i documenti dell'ufficio del personale e niente, parlavo poco fa con Vincenzo della passione che tutti i miei colleghi, cineteca, staff del presidente divisione tecnica, amministrazione, tutti quanti scuola, hanno partecipato alla realizzazione di questa mostra c'è chi si è fatto anche un po' male poco 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 e però non ha smesso di lavorare ecco io volevo fare, oltre che ringraziare tutti quanti volevo fare i complimenti ai miei colleghi per il lavoro che hanno fatto e complimenti davvero Allora, senza alcuna retorica non ci autocelebriamo ci raccontiamo attraverso le immagini che vedete attraverso i materiali che sono rinvenibili sulle nostre attività in genere di Scuola Nazionale di Cinema, di Biblioteca Chiarini e di Cineteca Nazionale sul sito fondazionecsc.it Ricordo, per chi voglia parteciparvi che il giorno 22 in distribuzione tra l'altro Vero Vincenzo già il programma generale ma vi segnalo il 22 questo convegno internazionale cui accennavo all'inizio che vedrà la partecipazione dei direttori delle Cineteche Italiane e di alcune Cineteche internazionali oltre che del presidente della Federazione Internazionale sotto la quale sono collocate tutte le Cineteche del mondo la FIAF e quella giornata si concluderà con la presentazione del libro di cui parlavamo il libro curato da il libro curato da Alfredo Baldi di cui saluto la vedo Bilina Vuccotti che è con noi ciao Milena si concluderà appunto alle 17 circa con questa presentazione del libro che non è ancora pronto perché l'abbiamo messo in cantiere all'ultimo minuto per avere tutte le ultime notizie in stampa e però per quel giorno 22 sarà in distribuzione qui nella sala del Teatro dei Dioscoli di cui ancora una volta ringrazio Roberto Ciccuto per avercela messa a disposizione se avete voglia abbiamo un piccolo aperitivo qui accanto nel bar per brindare all'inaugurazione della mostra del settantissimo della Cineteche nazionale grazie grazie grazie